e voglio raccontarvi questa storia che è una storia al contrario la Fonit Cetra ce l'ha messa tutta per far diventare Matteo Salvatore un musicista tradizionale ma Matteo Salvatore era un musicista ed è rimasto un musicista popolare anche dopo aver imparato a leggere e scrivere cosa che è successa intorno ai tre anni ha scritto delle pagine bellissime su delle melodie che anche lui trovava dentro di sé senza andarle a cercare questa che vi proponiamo credo che lui non sapesse che è una melodia del medioevo abruzzese lui era foggiano e ci ha lasciato qualche tempo fa e questo è il lamento dell'indicante la Fonit Cetra la Fonit Cetra la Fonit Cetra la Fonit Cetra ce l'ha messa tutta A quinta casa dè da nuve lleve A quinta casa dà da nuve va neve la mort Ha refrescato l'arma de l'obriadoria Poverè da nuve da l'arna delta E fin che un giorno avuto da nostre A Gesù Cristo tu le fa morire Li dico la panna a noi non ce l'ha nata Sa che già è qui mi annuncio di Eva I figli stanno aspettando che non mangiare Li canati t'hanno persa da casa nostra I figli stanno aspettando che non mangiare 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 che rimane rinda l'usac pigliano l'uomo maniato figlio e me fino a quando voi s'acchietto maniato figlio e me fino a quando voi s'acchietto maniato figlio e me fino a quando voi s'acchietto che rimane rinda l'uomo